Avete una vaga idea del motivo per cui vi ho chiesto di trattenervi? Cosa vogliamo fare? La situazione è abbastanza grave. Ma sì, prof, recupererò. Eh, prof, io mi sa che mollo, cioè, sono già stato bocciato un anno. Io ho tramite il raggiunto indirizzo. Mm, ho capito. Allora, io ho sentito i colleghi del consiglio di classe. C'è il tempo di recuperare. Un passetto alla volta ce la possiamo fare, ma dipende tutto da voi. Noi ci mettiamo il nostro, ma il grosso lo fate voi. Mi raccomando. Arrivederci.